Un minuto con padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo luogo significativo del convento, il refettorio, dove i frati mangiavano perché in effetti ora c'è un nuovo refettorio, questo è un refettorio che non si usa se non in momenti particolari, e qui sedeva padre Pio, ecco qui vediamo alcune immagini che ritraggono il nostro caro amato San Pio seduto a questo posto, ecco proprio qui, questo era il suo posto, come un filmato d'epoca ci racconta. Qui per raccontarvi e leggervi una lettera di padre Pio che scrive a padre Agostino il 18 aprile del 1912 e racconta quanto era dura la lotta contro il demonio. Padre Pio si trovava a Pietrelcina ormai da qualche anno perché una strana malattia lo costringeva a stare nella sua terra natale e racconta quello che accadeva nella sua Pietrelcina al suo compagno e padre spirituale, padre Agostino da San Marco Illamis. Babbo carissimo, ecco così lo chiamava, viva Gesù, sono lietissimo di potermi intrattenere con la presente un po' con voi, ma come farò a narrarvi i nuovi trionfi di Gesù sulla mia anima in questi giorni? Mi astengo solo a narrarvi ciò che passò in me martedì scorso, che fuoco acceso sentì in questo giorno nel cuore, ma vi furono cose che non possono tradursi in un linguaggio umano, scrive padre Pio, senza perderne il loro senso profondo e celeste. Il cuore di Gesù il mio, permettetemi l'espressione, si fusero. Non erano più i due cuori che battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso come una goccia d'acqua che si smarrisce nel mare, Gesù nera il paradiso, il re. La gioia in me era si intensa, si profonda, che più non mi potei contenere. Le lacrime più deliziose mi inondarono il volto.